Una vasta operazione della Polizia di Stato per il contrasto al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione si è conclusa nella notte in 27 province portando al sequestro di tre centri massaggi cinesi all'arresto di sette persone per sfruttamento della prostituzione e a ben 71 denunce. Tra Marche e Abruzzo i controlli hanno riguardato le province di Ancona, L'Aquila e Teramo. Circa 2.400 invece le persone controllate da parte di oltre 400 operatori delle squadre mobili della Polizia di Stato coordinati dallo SCO. In particolare nel capoluogo dorico i blitz sono scattati in cinque centri benessere all'interno dei quali è noto sicelino prestazioni sessuali a pagamento spesso nascoste dietro in esistente attività professionali relative al settore estetico pubblicizzate anche online attraverso siti e piattaforme di messaggistica. Luoghi utilizzati soprattutto da soggetti appartenenti alla criminalità straniera, in particolare cinese, dedite al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, talvolta anche minorile. A seguito dei controlli due persone sono state denunciate ad Ancona, una perché irregolare con i documenti, l'altra per vendita illegale di medicinali e ricettazione. Il sequestro penale di farmaci è stato operato in collaborazione con le fiamme gialle. In tutto sono stati sequestrati 3.000 medicinali, verosimilmente Viagra, botulino e altri prodotti medicali di importazione e vendita illecita. Complessivamente in tutta Italia sono state 82 le sanzioni amministrative per decine di migliaia di euro per esercizio abusivo dell'attività commerciale, violazione della normativa sull'immigrazione e stupefacenti, irregolarità in materia di assunzione dei lavoratori, violazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre 51 persone straniere sono risultate irregolari sul territorio nazionale, 26 delle quali destinatari di un provvedimento di espulsione. Infine in alcuni locali sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. A supporto degli uffici investigativi hanno operato 60 equipaggi dei reparti prevenzione crimine e numerose unità cinofile.